La fede che unisce il credente a Cristo e lo fa certo del di Lui trionfo su tutte le potenze del male è quella che gli può dare la costanza di cui ha bisogno nelle prove, la eroica sottomissione quando è chiamato a soffrire o da anche morire per la causa del regno di Dio. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Vangelo secondo Giovanni capitolo 12 versetto 25